Non hanno energia sufficiente o non hanno la motivazione a fare le cose, quindi otteni dat gius e tu potreste essere in grado troppo e segui attraverso pareti come un ninja. Vieni con il fuoco e testi per il vostro mixtape e il fumo? Fai un moto di lavori che di solito si può, per il citano troppo e molto di più. L'energia non è la sola cosa che di incredibile, si è che da gius. Da gius ha un bel verde naturale di gusto, molto di elettroliti, zuccheri naturali, molto di nutrienti che fa parte di un ben equilibrato prima colazione e il costo è di 2,65 euro. Avertenza, se da gius è consumato troppo, c'è una possibilità che seppur diventi dipendente. Grazie a tutti!